I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sala Consilina, guidata dal capitano Paolo Cristinziano e dalla stazione di Polla, comandata dal maresciallo Giacomo Mezza, hanno sottoposto a fermo un 37enne residente a Polla, già noto alle forze dell'ordine, per la rapina in un centro scommesse avvenuta questo ferragosto. Stando alle accuse, l'uomo insieme a un complice aveva minacciato la dipendente con una pistola e si era impossessato dell'incasso di diverse migliaia di euro. Dopo la rapina, i due malviventi si erano dileguati a piedi. Il 37enne è stato quindi individuato e ora è caccia al complice. L'attività investigativa, coordinata dalla procura di Lago Negro ed è avviata nell'immediatezza dalla stazione di Polla, si è concentrata sulla visione dei filmati delle telecamere presenti all'interno dell'esercizio commerciale, le cui immagini hanno consentito di acquisire informazioni importanti sul modus operandi e sull'abbigliamento indossato dai due rapinatori.